Nella giornata di giovedì 10 settembre, presso la sala multimediale del Consiglio regionale della Campania, si è tenuta la prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano. L'incontro è iniziato con un caloroso saluto e l'espressione di sentite condoglianze nei confronti del Presidente del Comitato, lo scrittore Maurizio Di Giovanni, non presente alla seduta a caso di un recente lutto. La riunione è stata preseduta quindi dai due vicepresidenti, il dottor Armando De Rosa e la professoressa Rita Librandi. Sono stati presenti a questo primo incontro i professori Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Umberto Franzese e in modalità remota Carolina Stromboli. La seduta è cominciata con una breve introduzione da parte del dottor De Rosa, che ha informato i presenti di tutte le azioni svolte per sollecitare i funzionari e i dirigenti ad adempire i compiti previsti dalla legge per assicurare al Comitato la massima efficienza e operosità. Tra queste attemperanze indicate è stata evidenziata quella inerente alla reperibilità di una sede, alla creazione di un logo ad hoc e all'istituzione di caselle di posta elettronica specifiche per la ricezione dei messaggi e delle richieste. Dopo questa breve introduzione si è entrato nel merito degli argomenti, parlando delle grandi potenzialità e delle numerevoli opportunità possedute dal Comitato. Ognuno dei componenti ha contribuito ad arricchire la discussione, ipotizzando diverse possibilità di adempimento dei compiti che la legge prevede. In primis si è parlato di un argomento già discusso nella seduta d'istituzione, ovvero quello riguardante la creazione di un vocabolario storico della lingua napoletana. Sono state sottolineate le diverse problematiche inerenti a quest'ambizioso progetto, come ad esempio l'utilizzazione dei fondi già stanziati dalla Regione e eventualmente la reperibilità di altri finanziamenti per l'istituzione di borse o assegni di ricerca. A tal proposito, il dottor De Rosa ha informato nuovamente i presenti del suo costante impegno nel sollicitare gli uffici addetti. Si è parlato, tra le altre cose, anche del ruolo fondamentale che possono avere le università nell'appassionare le nuove generazioni attraverso stage, tesi di laurea e convenzione con antipartner. Un altro argomento trattato è stato quello inerente all'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali con il coinvolgimento di personalità di spicco del panorama linguistico partenopeo. Nell'affrontare dall'argomento, il dottor De Rosa ha messo al corrente i presenti che l'aprologo di Villaricca già da tempo sta pensando a una serie di iniziative e manifestazioni per il 2021, volte a ricordare il centenario del maestro Sergio Bruni. A tal proposito, il comitato si è detto disponibile a patrocinare la suddetta iniziativa che prevede una serie di manifestazioni come una mostra, un convegno e diversi spettacoli durante l'intero anno 2021.